Stai facendo luce però Oh si è acceso, si è acceso, si è acceso! Grand Blades! C'è ci spostati come riesco a pensare Troppo! Spostati! Spostato troppo! Sei morto! Faccio una mission abbastanza suicida Prendo le barche Io ne ho già una Hai capito no? Si però servirebbe qualcuno che con l'arco prende i blades Io io Ti posso lasciare il bow blade Se vuoi Devi prendere un paio di barche Il resto è un torch che ho lasciato E dobbiamo andare con le barche A piazzare le redstone torch Sulle TNT Aspetta dammene qualcuno anche a me che vengo pure io Prendile dalla cesta è piena Ah! Ci sta prendendo fuoco la casa eh Non so più Si si abbiamo visto Simo questa è una missione senza ritorno Si Ok Sono partito Ai tu sei la prima ondata Adesso tocca a me Aiuto aiuto Ho tre cuori Ho tre cuori Ho tre cuori Non me la fa piazzare? Cazza l'acqua sopra Oddio no l'hai acceso L'hai acceso a me Si è attivata L'hai acceso al green Eh! Facciamo l'azienda dei blades Buona idea E' stato il più possibile in acqua E' stato il più possibile in acqua Si E' esploso si Aia come fa a prendermi i blades in acqua? Fai così Stai senza la barca in acqua Oddio cosa? Perchè lo spawner è esploso No no oddio niente Ah! Come si muore? Nooo sono morto Orto Eh non so dove sei Nell'acqua Vicino al secondo spawner Vicino al secondo spawner Perchè ce ne son due Eh si Ah ho visto Eh un attimo perchè qua sono circondato letteralmente da zombie Io Sto tornando Ok Quanti tutta l'ho presa Adesso vado a prendere il resto Tornate alla casa per piacere Eh si un attimo Eh devo andare a prendere il resto della roba Ho finito le frecce cazzo C'è un'altra casa più avanti Eh quella lì che volevo andare Hai preso il resto della mia roba? Eh quando abbiamo preso tutto Sembra di avere la presa appoggi tu Aspetta che Bisogna portarsi dietro questa cesta ragaz Quale? Quella che c'è qua a casa Quanti blitz ci sono ragaz? No no merda me no no Ho due cuori e mezzo si ma io mi allontano Si l'avevi presa tutta Ma io ho l'arco non ci penso Cioè no Non ho preso le frecce Non hai preso le frecce? Le mie frecce? Eh ragazzi L'avete anche voi la costruzione di Stone? Si Di stone brick C'è stone brick? Si Sai cosa servirebbero tanto? Delle torce Eh ce l'avevo io Forse ce l'assimo adesso Eh si 48 torce Vieni qua vicino alla casa Arrivo Proteggimi Torciate Torciate Torc come torcio Torc come torcio Torc Alfono Torciati con gli sputti Oh mio dio ma ci sono Eh Ci sono altri blitz Fermi Voglio le mie cose Non ho niente Non ho cibo Un attimo Vieni qui sei inutile Grazie Venite alla case Ci sono No cosa fai? C'è ce il ragazzo Io le busto Voi vi tenete le cose più belle? Sì Ah, le teniamo! Oh, oh, bambino! No, ho piazzato la testa! Non dimmi che hai piazzato la testa! No, l'ho droppata! Ah, tol ferro! Io avevo degli stivaletti in diamante, però va bene! Li ho droppati, quindi, eh! Non chiederà a me chi è piaciuto! Sono lì, sono lì, sono lì! Ok! Dei blocchi perfetto, le torce ne ho un po'! Aspetta, ti do altre 32 di sabbia I tuoi bastoncini che non voglio I tuoi bastoncini che non voglio I tuoi bastoncini che non voglio La fesca che non la voglio Ma casa, non è neanche se non vuoi tutte le cose! Dove sono le torce? Dividiamocene! Oh, tieni ne 12, io ne ho 12 Tu ne hai 12 e Simo ne ha 24 Ho distrutto lo stoner Fermi, fermi! C'è uno zombie dietro di voi in armatura d'oro! Si, l'ho visto! Salutamelo! Eh, ha salutato Cicci! Aia, scusa! Sto per morire! Cactus di merda! Disconnectiti! Disconnectiti! Occhio al Creeper, occhio al Creeper! Te lo faccio esplodere! Cazzo, no no no! Scappa, scappa, scappa! Prendete il Creeper! Ma no, Creeper rimane lì, mi fa un cazzo! Allora, direi, abbiamo dei blocchi Sambia, chi se ne frega! Saliamo qua sopra! Aspetta, no! Qui sopra non c'è niente! Direi perché sento dei bling! Io provo, ho il piccone e entriamo qua dentro! Ah, ma c'è un altro spawner che non l'abbiamo distrutto più avanti! Ah! Molto interessante! Eh, se vuoi provare a rompere? No, no, grazie! Oddio, c'è un Blade che sta volando! Si! Quello serve all'arco! Ok, ci sono! Creeper! 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 Ok! Occhio che il Blade ce l'ha un attimo con noi! C'è una cesta! Un libro, dei pantaloni, c'è una spada di pietra! Dove si è tallati? Siamo sopra la cononna! Ah, quella storta! C'è del granito! Volete un po' di blocchi? Io ne ho un po' eh! Aspetta, c'è un altro porto! Io ho bisogno di blocchi, io ho bisogno di blocchi! C'è un altro porto lì vicino, entriamo! Si, l'ho visto, però c'è... Ah! Proprio ci buttiamo Acab? Eh, si! Acab! Ok! Ok, non c'è niente in questo porto, è inutile! No, c'è la cesta! Dove c'è la cesta! Vivo! Dove una celpa di ferro, protection 3, un po' di barche... ...e della karma! Aspetta che c'è uno scheletro! C'è anche uno zombie arenato, cosa strana da dire, ma vera? Tanto a me! Eh, spoon e run! Nooo, mi ha saltato la connessione! Come ti hai saltato la connessione, no? Perché? Boh! No, nel senso che mi ha fatto uscire dal gioco, ma... Vediamo se... Ma in effetti l'agravo tantissimo! Ok! Calmi! Torcifico! C'è uno spawner qua, Simo! Lo sto distruggendo! Io cecchino dall'alto della colonna! Ecco! Ci vediamo a fare esplodere lo spawner! Tu prendi i blades! No, io non ne vedo più di blades! No, è perché non siamo vicino! Ma adesso che ci avviciniamo spawneranno! Aspettate perché mi lagga troppo! Aspetta, forse c'è un metodo più ACAB, Simo! Eh? Hai ancora delle torce di Redstone tu? Si, no, sei! Ok! Il piano è questo allora! Ho una frecciatura! In parte c'è una torre, sempre come quella che abbiamo fatto prima! Ho capito! Ho capito! Ho capito! Ci lanciamo da lì, uno di noi si lancia e piazza la torcia! E piazza la torcia di Redstone, si! Iniziano a spawnare migliaia! Più che altro development boomer! Io lo vedo! E' qua giù! Vieni qua! Ah, lo vedo! Eh, ok! Hai capito cosa devi fare? Vai! Si! Io filmo! Io recco! Oh! No! No! Mega fail! Mega fail! Mega fail! Mega fail! Non è la messa! Non è la messa! Aspetta! Aspetta! Ho visto il tipo! Aspetta! Sto ritornando! Sto ritornando! Sto ritornando su! L'hai visto? C'è c'è! No! Ti sei perso una cosa fantastica! Oh, devi posizionarti bene però! Guarda quanti c'è che è! Eh, appunto! Aspetta! Sparate un po' ai cosi! Eh! Non ho frecce! Perchè! Ne ho due! Vaffanculo io ci uccido! No! Oh, ma sti fail basta eh! Dai, non sono fatte da quattro parte! Ancora! Stai facendo luce però! Oh! Si è acceso! Si è acceso! Si è acceso! Grand Blaze! Era tutta una tecnica! Era tutta una mia tecnica! Era tutta una tecnica! Era tutta una tecnica! Era tutta una tecnica! Era tutta una tecnica! Perché dovevo andare lì a sbagliare a prenderlo così iniziavano a bersagliarmi! Cece! Fai una scala che va verso... Non lo so! Non lo so! Non lo so! Verso qualche parte! E' presente dove c'era quel creeper? Sono già andato verso di là! Eh! Si! Adesso... Sei vivo? Sei morto? Ho un cuore e mezzo! Ti serve del cibo? No! Ho 28... Ho 27 terni marcia! Perché è presente dove c'era quel creeper sopra al tubo! Si! Sono nascosto a quel muro! Non mi vede nessuno! No! Cece! Non il pietrisco! Il pietrisco ci serve! Ok! Ti servono dei blocchi! Ce li ho io! Guarda! Ho 32... Ho 20 blocchi di granito! Tieni! Ho 22 di sabbia se volete! Eh! Trasformi... Cece ferma! Ti prendi i blocchi di granito! E' vero! Li trasformi in senso! Non ce l'ho pensato! Oddio! C'è un altro spawner di blaze! Ma che due palle! Cece di dire! Cece i blocchi di granito se li vuoi prendere! Ok! Continuo un attimo io! Oddio! Nelle torrette più avanti lì di pietrisco ho già visto uno spawner! Quella che ha sopra la cesta e dentro c'è uno spawner! Che bastardi! Aspettate un attimo! Fermate un attimo! Ehm... Avete del legno voi! Sì! 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 Guardate che genialata che faccio! Io ho una cesta! No no! Guardate che genialata che faccio! Guarda eh! Abbiamo i mattoni! Ma magari la fornace! Facciamo gli slab! Adesso ho 54 slab di mattoni! E ne abbiamo molti di più adesso! Cece spostati che non riesco a piazzare! Grazie! Troppo! Spostati! Spostato troppo direi! Aiuto! C'è una cesta! Non stiamo con la cesta! Non stiamo con la cesta! Non stiamo con la cesta! Dove sei? È caduto giù! Ah, ci vedo! Ah, ma vai tranquilli lì! C'è tutta la zona! Ehm... Mettete torce su questi punti perché... Tra poco si fanno... Tieni le torce, sì! Torna indietro e metti un po' di torce perché sennò... Ok! Sto cercando di capire dove è la lana intanto... Oh! Vedo... Vedo un castellino lì! Perché? Ho visto un castos distruggersi! Ah, eh... Perché se sparano i blades li distruggono! Sì, ho torce! Eh, aspetta perché... Vedo che io vengo! Bastardo di una troia! Troia bastarda! Occhio per calcare il fatto di quella cesta c'è un... Dio spugno! Eh... Ah, la c'è in avanti! Sei morto! Eh, non avevo dubbi che fossi morto! Mi ha piazzato lo slab e male e sono morto! Eh, io che cacchino! Occhio per...